Impressioni e momenti della manovra che portò in cinque giorni le truppe dell'asse da Agedabia a Derna. Questa manovra è stata svolta con velocità fulminea secondo un piano strategico ben preordinato. Una delle colonne ha marciato per la via Balbia verso il mare, occupando prima Bengasi poi Barce. Le altre hanno operato su itinerari verso l'interno, lungo le strade gebeliche, le piste e le carovaniere, impegnando, agganciando e attanagliando le forze nemiche in una superba manovra di aggiramento che ha portato alla conquista di Derna. Seguiamo una colonna italiana in marcia verso il gebel cirenaico. Uno scontro presso il Mechili con unità corazzate nemiche che cercano di ritardare la rigorosa spinta della colonna verso Derna. I cannoni contro carro e mitragliere picchiano sodo sulle formazioni nemiche. I nostri aerei piombano sul luogo dello scontro per mitragliare e spezzonare i popolai della resistenza nemica. Un carro armato nemico ridotto al silenzio e immobilizzato. Altri carri inglesi messi fuori uso. In vista del gebel, un aereo lancia un messaggio. Ordine di proseguire. La marcia vittoriosa continua. Gli aerei britannici abbattuti testimoniano la vivacissima quanto vana resistenza opposta a terra e in aria dall'avversario. La marcia vittoriosa continua.